Domenica 27 dicembre è il V-Day della vaccinazione anti-Covid. Dopo il via libera dell'EMA al vaccino Pfizer in Europa, sono in arrivo anche all'USL 8 il vaccino, le siringhe speciali, mentre in giornata è arrivato il frigorifero per conservare il vaccino a bassissime temperature. Vaccinazione che in questa prima fase riguarderà, lo ricordiamo, il personale medico-sanitario, compreso quelle nelle case di riposo ed amministrativo. Per l'azienda sanitaria Berica si tratta di 6.000 dipendenti. Sarà una sequenza che farà partire intanto i reparti maggiormente esposti sul tema Covid, quindi viene a dire le terapie intensive, la malattia infettiva e tutta l'area internistica e dopo probabilmente daremo spazio prima di tutto a chi non ha ancora contratto il Covid. In queste ore l'intera struttura dell'USL è al lavoro per organizzare modalità e giorni in cui effettuare la vaccinazione. Una volta entrati a regime, ma ci stiamo già lavorando adesso, apriremo più punti vaccinali per tutti i nostri dipendenti e quindi dovremo velocemente, noi ragioniamo veramente di un paio di settimane di aver vaccinato tutta l'azienda o tutti coloro che in azienda decidono di vaccinarsi. Si lavora a livello informatico affinché chi fa il primo vaccino abbia già la pronotazione fissata per il richiamo. Se la questione carenza personale medico per il vaccino non è in discussione, si sta lavorando sulla creazione di team gestiti a loro volto da un medico, rimane aperta invece quella di chi non vorrà vaccinarsi anche nell'ambito sanitario. Stiamo quindi lavorando non tanto su un consenso informato alla vaccinazione ma su un dissenso motivato che questo chiaramente è nell'ambito della libertà ovviamente di ognuno di noi.